Si rompe la trattativa tra l'Associazione Bancaria Italiana sul Fondo Esuberi e il Sindacato di Settore, il Fabi, che minaccia iniziative di mobilitazione. Sentiamo qual è stato il punto sul quale le aziende e i lavoratori non si sono trovati d'accordo. Lando Sileoni, segretario della Fabi. Sono diversi mesi ormai che stiamo trattando sulla riforma del nostro ammortizzatore sociale, il Fondo Esuberi, che ha permesso dal 2000 ad oggi il prevenzionamento volontario di circa 30.000 lavoratori bancari. Abbiamo rotto perché non abbiamo trovato un'intesa sul trattamento economico e sulla permanenza del fondo e conseguentemente l'ABI oggi ha deciso di sdettare l'accordo che nel 2001 avevamo fatto che prevedeva una fuoriuscita volontaria di quei lavoratori che volontariamente accedevano sul fondo.